un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni lotondo dalla chiesa di san pio da pietrelcina qui in san giovanni lotondo consacrata il primo luglio del 2004 oggi qui per raccontarvi dall'epistolario numero uno il volume numero uno quello che raccoglie tutte le lettere che padre pio scrive e che riceve dai suoi padri spirituali padre benedetto e padre agostino una lettera del giugno del 1911 padre pio si trova a pietrelcina perché una strana malattia lo costringeva a restare a casa lui stava male ogni qual volta che rientrava in convento ogni volta che rientrava in convento stava male quindi era costretto di nuovo a ritornare a casa quindi a vivere nella sua terra natale e lui scrive quello che era il suo stato d'animo le sue gravi infermità da parecchi giorni mio caro padre scrive a padre benedetto vado sempre peggiorando con la salute le medicine che ho prese come se l'avessi gittate in un pozzo dico sinceramente che soffra assai e se si procederà ancora in questo modo non potrei nemmeno io sapere come andrà a finire mi aiuti un po padre mio se vuole perché non ne posso quasi più sarebbe proprio da consigliarmi una visita da qualche specialista sarebbe sebbene preveggo che il viaggiare mi produrrassi certo un grave sfascio alla salute ma che vuole la necessità in certi casi è una triste consigliera e in effetti questa sua richiesta verrà presa in considerazione tra qualche mese sempre nel 1911 quando poi dal convento di penafro andrà ad essere visitato dal celebre caldarelli proprio in questo anno nel 1911 era l'ottobre del 1911 inoltre tale visita che scrive padre pio si rende quasi impossibile perché le attuali strettezze della famiglia si lascia si faccia il volere di dio ho voluto farle sapere tutto questo per maggiore tranquillità di coscienza non per altro perché sono sempre disposto a fare la volontà di dio e dei miei superiori il demonio si giova di questo indebolimento di forze e impossibilità di reagire per maggiormente affliggermi con fantasmi e spauracchi ma padre mio quali sono i fini di dio per permettere al demonio tanta libertà la disperazione vorrebbe prendermi eppure mi creda padre mio la volontà di dispiacere a dio non ce l'ho io non so rendermi ragione e molto meno intendere come mai possa stare insieme volontà si risoluta e pronta ad operare il bene con tutte queste miserie umane se dunque scorgesse che io stessi in pericolo per l'anima mia mi aiuti se non vuole vedermi ridurre in cenere di peccati perché l'anima la voglio salvare ad ogni costo e dio non voglio proprio più offenderlo vengo poi nuovamente a rinnovare la mia preghiera riguardo a ciò che ultimamente le chiesi in carità si trattava di una richiesta di un abito un abito nuovo e alcuni libretti spirituali e poi padre pio conclude preghi per me e attendo sue paterne notizie grazie a tutti grazie a tutti